Adesso vorrei dare spazio al nostro prossimo collegamento in streaming con il dottor Dario Gallina che vedo già collegato, che è presidente della Camera di Commercio di Torino. Benvenuto dottor Gallina, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'invito a voi. Sei riuscito a seguire parte della trasmissione. Ovviamente ci siamo soffermati sulla notizia della giornata, la nascita di Stellantis. Io vorrei raccogliere anche un suo commento a caldo, un'opportunità per Torino. Quali scenari si aprono dal suo punto di vista? Sicuramente ci sono delle grandi opportunità per questo grande matrimonio che fa del gruppo FCA insieme a Peugeot, il quarto gruppo mondiale del settore automotive. Quindi grandi speranze e aspettative, ma ovviamente anche un po' di rischio c'è, perché ovviamente c'è una competizione sulla filiera d'automotivi dei fornitori più accentuata, ci saranno delle scelte di investimento con un partner straniero. Quindi noi dovremmo, come ho già avuto modo di dire, guadagnarci il fatto che continuino gli investimenti sul nostro territorio. Grazie a quello che l'ecosistema risponde, le istituzioni hanno una visione che riguarda il settore dell'automotive. Noi abbiamo richiamato, anche prima quando facevo il Presidente dell'Unione Industriale, una visione di politica industriale nazionale sul settore dell'auto. Abbiamo organizzato un tavolo nel febbraio 2019 sull'automotive, con una proposta articolata, cercando di far capire che è un settore in grande trasformazione. E c'è un bisogno veramente di una visione nazionale. E questo, se mancasse, se fosse insufficiente, ci potrebbe mettere in difficoltà sulla trazione di investimenti nella nostra area. Ma se invece queste cose noi le riusciremo a fare bene, credo che diventino opportunità, perché noi abbiamo le competenze e le capacità di fare il mestiere dell'automotive. Questo lo sappiamo, lo diciamo sempre, ed è un settore trainante su cui dobbiamo continuare a investire. Quindi la manifattura e la manifattura dell'auto per noi è ancora centrale e rappresenta un settore centrale in Italia. E Stellantis... Ancora dare il suo contributo in questo processo. Torino sarà ancora centrale nel dare un suo contributo? Torino dovrà essere centrale, che va dalla vita, dalla sopravvivenza di migliaia di posti di lavoro. Stiamo facendo delle azioni importanti di territorio. Ricordo la città della manifattura a Mirafiori, che è un grande investimento su cui anche il governo ha puntato con l'Istituto Nazionale per la Ricerca dell'Automotive. Stiamo lavorando, cercando di accelerare i tempi. Ci sono delle risorse già allocate per il nostro territorio, che sono dell'area di crisi complessa, che è un'altra opportunità che dobbiamo cogliere il più presto possibile firmando l'accordo di programma e fare in modo che questi 50 milioni siano a supporto dei programmi di investimento delle nostre aziende. Inoltre, dialogare in modo molto attivo con le multinazionali, tra cui ovviamente Stellantis da oggi sempre di più, per il settore dell'automotive. Avete ricordato il settore, non ho sentito bene la discussione, ma ho colto la parola aereo-spazio, che è l'altro grande driver del nostro territorio. Se noi faremo vedere che ci sono le competenze, le grandi aziende multinazionali continueranno a investire su questo territorio. È un territorio su cui c'è la conoscenza delle imprese, ci sono le università e il Politecnico che hanno dentro anche loro le competenze e possiamo sfornare giovani che possono essere inseriti a supporto di questi investimenti. Tenga presente che da una parte gli investimenti e la trasformazione tecnologica, dall'altra parte le esigenze di competenze, di risorse umane preparate. Su questo dobbiamo lavorare. Ci sono una serie di attività che stanno andando avanti. Io quindi sono ottimista perché vedo che ci sono le possibilità per fare bene. Ovviamente dobbiamo giocarci le carte sempre in uno scenario sempre più globale, perché anche il gruppo Stellantis guarderà al mondo. non sarà più un gruppo prettamente italiano, quindi avrà una scelta su diverse opzioni. Abbiamo visto il tema della Polonia, degli investimenti che stanno facendo in Polonia. Ce lo dovremmo giocare al meglio e lì serve anche il ruolo delle istituzioni, sia regionali che anche e soprattutto nazionali. Ecco, Provenzano voleva aggiungere qualcosa a quanto lei ha detto. Sì, buongiorno Gallina. Allora diamo qualche numero, giusto per rafforzare la teoria del far squadra, del difendere Torino come distretto industriale storico, ma che deve avere un futuro assolutamente forte. Allora, Mirafiori, il polo dell'auto, il polo produttivo conta oggi più di 10.000 dipendenti diretti e ce n'è altrettanti dove si fanno appunto i truck, i motori, dove dicevamo prima rispetto a un altro presidio industriale molto forte. Poi c'è l'aerospazio tra Casella e Torino, altri 3.000 dipendenti diretti e quindi i driver, come diceva che lì, ci sono, bisogna sicuramente candidare Torino in questa fusione, soprattutto a essere un player, una parte del mondo. È chiaro, non è più l'auto Torino centrica, sarà sicuramente una parte del mondo che può giocare le proprie carte. Il battery hub Mirafiori candida il plant di Mirafiori come polo dell'elettrico nella fusione Stellantis, almeno per la parte italiana. Arriviamo in ritardo su questo segmento, però possiamo recuperare 7.000 dipendenti diretti agli enti centrali, che sono il cervello dell'azienda, sono ancora capaci di esprimere insieme al Politecnico grandi competenze, come l'aerospazio. La ricerca che chi viene da quel mondo, e io conosco molto bene quel mondo, sa che la ricerca fatta nell'aerospazio ha un effetto moltiplicatore evidente, anche a cascata può avere delle ricadute su altri settori. Per quello il parco dell'aerospazio, la città dell'aerospazio, è un progetto che deve essere concluso, deve essere portato avanti e sostenuto. Io credo che noi dobbiamo difendere associazioni datoriali, associazioni dei lavoratori, insieme alla politica, il nostro territorio non tanto per fare una battaglia partigiana, perché non avrebbe alcun senso in un mondo globale, ma perché possiamo esprimere delle competenze, una storia che supporta queste competenze. Ecco, ma lanciare un marchio e produrlo altrove non comporta dei rischi, vorrei chiedere a entrambi. Gallina? Scusi, non ho sentito la domanda. Un marchio e produrlo altrove comporta dei rischi? Beh, certamente sì. Non dobbiamo sottrarci alla competizione, quindi noi dobbiamo giocare le nostre carte e a Provenzano dico che dobbiamo risolvere i problemi importanti della produttività. Il problema che sta mettendo in discussione gli investimenti in Italia è che abbiamo perso decine di punti di produttività. Noi dobbiamo capire come l'Italia possa risollevarsi da questo gap di produttività, altrimenti gli investimenti sarà molto complicato attrarre gli investimenti. Il ruolo del sindacato e ovviamente degli imprenditori con gli investimenti sarà fondamentale. Il recovery plan, io spero che possa dare una spinta agli investimenti, ma l'Italia deve cambiare un po' il suo DNA di come ha affrontato questi temi negli ultimi periodi. E dobbiamo farlo tutti insieme, perché dobbiamo cambiare anche alcune metriche con cui si è dialogato negli ultimi anni, cercando di guardare a quello che noi riusciamo a portare a casa tutti insieme. Ormai è un lavoro che veramente dobbiamo farlo come squadra paese. E sarà difficile, perché partiamo svantaggiati. Quindi benvengano gli aiuti dell'Europa, dello Stato, benvengano questi accordi di multinazionali che, come ripeto, guardano al mondo, ma la responsabilità sta anche nel creare le condizioni che gli investimenti attecchiscano, le scelte dei manager possono essere orientati verso il nostro paese. Non abbiamo molte carte da giocare in questo momento, non abbiamo l'attrattività fiscale, se non in particolari casi, se riusciamo a fare dei programmi specifici, come dicevamo, l'area di crisi complessa, con aiuti e supporto. Non abbiamo, per esempio, la carta da giocare sui costi energetici, non abbiamo un modello burocratico efficiente. Immaginate quante zavorre noi abbiamo ai nostri piedi. Quindi continuiamo a essere ottimisti, continuiamo a dire che l'area di Torino e del Piemonte ha le carte in regola come competenze, ma abbiamo tanti, tanti, diciamo, lacci e lacciuoli che ci dobbiamo sciogliere, perché gli investimenti, se no, verranno orientati verso altri paesi. E questo lo farà anche chi sarà la guida di Stellantis. Guarderà l'Italia, ma guarderà anche alla Francia e all'Europa o anche negli altri paesi dove sarà più conveniente produrre. Un'altra cosa importante, ovviamente, sarà di trattenere almeno, al minimo, la testa pensante della progettazione. Questo è un tema molto importante. Noi dobbiamo assicurare che a Torino rimanga ancora la progettazione e la testa pensante. Ma non saremo l'unico centro di sviluppo di progettazione del gruppo, ce ne saranno altri. E anche lì si svilupperà una competizione che dovremmo saper affrontare, facendo vedere che c'è uno stretto legame nel territorio tra università, imprese e istituzioni. Lo stiamo facendo con la città della manifattura, la città dell'aerospazio. Sappiamo che ci ruoterà almeno due o tre anni per realizzarlo, ma dobbiamo partire subito con questi programmi che utilizzano anche risorse del governo che ha messo a disposizione. Quindi è fondamentale che i bandi per l'area di crisi complessa sull'automotive e l'aerospazio partano al più presto possibile, in modo che le aziende sappiano che avranno un supporto, almeno di una parte dei loro investimenti, che sarà sostenuto da risorse pubbliche. Provenzano? Sì, noi non vinceremo mai questa sfida se la logica è di aumentare la produttività mantenendo gli stessi salari, perché io vorrei anche discutere rispetto a questo di salari, di aumenti, e sicuramente come produttività noi abbiamo condiviso proprio nel settore dell'auto gli accordi di Mirafiori, i contratti specifici di settore, proprio per venire incontro a settori particolari. Chiaro è che se la sfida è più produttività e meno salario non vinceremo mai, ci sono altri paesi che sono più competitivi di noi. Noi dobbiamo sicuramente qualificarci sulle competenze. Dico anche questo però, è una sfida per la classe imprenditoriale di questa città. Io credo che se c'è un tema della produttività c'è anche un tema dei bassi investimenti privati, c'è anche un tema di forte disimpegno di alcune famiglie, di alcuni capitali che sono presenti nella nostra regione e nel nostro territorio, e questi devono tornare a scommettere sul territorio. Noi come sindacato facciamo, abbiamo sempre fatto la nostra parte. Io credo che il tema delle aziende, lo diceva anche Gallina, l'attrattività di questo territorio, dell'Italia passa appunto per la burocrazia, passa per il tema della corruzione, perché questo è un tema che c'è, passa per il tema della giustizia, perché è chiaro che un imprenditore ha la necessità di avere giustizia in fretta per poter fare quello che deve e quindi credo che una maggiore giustizia, anche sociale da questo punto di vista, un aumento dei salari, non siano di ostacolo al sindacato per una discussione sulla produttività. Dottor Gallina, c'eravamo anche ripromessi di parlare di una importante iniziativa che vede coinvolta la Camera di Commercio di Torino, la palestra digitale, questa iniziativa che è tornata a partire dal mese di gennaio, un'iniziativa che ha riscosso sicuramente tanto successo, si tratta di pillole informative per le imprese, per tenersi aggiornate, per non stare sempre al passo con i tempi, perché è proprio importante, come abbiamo detto anche nel corso della nostra chiacchierata, la formazione, tenersi per le imprese sempre aggiornate e formate. Sicuramente, sono temi fondamentali, questa pandemia ha accelerato tutto l'uso delle tecnologie digitali anche nelle piccole e micro imprese, quindi la Camera di Commercio si rivolge soprattutto a questo tipo di imprese che hanno dovuto, diciamo, cimentarsi con l'uso della rete, specialmente chi è nel commercio, nella ristorazione, che ha dovuto utilizzare sempre di più la comunicazione digitale, gli strumenti digitali. Queste pillole, questa palestra digitale vogliono proprio avvicinare il mondo degli imprenditori, del commercio e dei professionisti all'uso degli strumenti di comunicazione, per esempio, oggi è iniziato la prima sessione e si svolgerà ogni 15 giorni, oggi abbiamo parlato di Facebook, per esempio, ci parlerà degli altri piattaforme, Instagram, LinkedIn, Twitter, perché non è così scontato che ovviamente vengono utilizzati bene, tutti i giorni ci cimentiamo col nostro smartphone, però in realtà queste piattaforme hanno delle technicalities, hanno delle regole che ne permettono di aumentare l'efficacia, quindi saper usare bene questi strumenti è fondamentale anche e sempre di più nel lavoro delle nostre micro imprese. Sono corsi gratuiti, sono pillole che si svolgono nell'ora, diciamo, alle 12.30, ogni 15 giorni, gratuitamente offerte dalla Camera di Commercio, tra l'altro le aziende che vogliono poi approfondire avranno un supporto più specializzato, specialistico da parte dei punti di impresa digitale a cui offriamo un supporto per l'investimento nelle tecnologie digitali. L'anno scorso hanno aderito 2.600 persone, noi continueremo su questa strada perché è una delle mission la digitalizzazione della Camera di Commercio. Stiamo lavorando su dei progetti molto ambiziosi, abbiamo già fatto però alcuni bandi che abbiamo messo sotto il grande cappello dell'emergenza con dei bandi sprint dove abbiamo dato contributi a fondo perduto fino a 3.000 euro alle imprese che dovranno affrontare le prime spese per questo grande problema della pandemia e continueremo nel primo semestre di quest'anno e ci saranno anche oltretutto dei progetti che riguarderanno proprio la digitalizzazione cercando di creare una forte presenza delle imprese. Le imprese ce n'è circa un 15% che sono più o meno pronte e usano gli strumenti digitali e altre migliaia di imprese che non sono preparate. Queste pillole, questa palestra serve per avvicinarle a questo mondo ma non è sufficiente sono, come ripeto, degli interventi gratuiti che secondo me però stimolano la curiosità e anche l'inizio di un percorso che è molto lungo perché anche se tutti i giorni come ripeto usiamo il telefono usarlo professionalmente per il proprio business per accrescere il proprio fatturato è una cosa diversa. Bisogna studiare e applicarsi. Grazie al dottore Dario Gallina presidente della Camera di Commercio di Torino grazie per essere intervenuto nel nostro dibattito e buon lavoro grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.